Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi e oggi vi spiego come trovare questa cenere di guerra il rugito del troll e quindi ragazzi questo rugito può essere applicato solamente su spadoni, spade colossali, spadoni corvi, spade pesanti, spade semplici, spade senza abilità niente, solamente spade di pietra, basta, oppure di ferro quindi il posto dove andare è qui ai monti dei giganti, dirigetevi qui in questa posizione esatta adesso io velocizzo il video per farvi capire dove esattamente dobbiamo andare su quella cima della roccia dove stanno quei tre corvi rompicazzi che non ti puoi neanche avvicinare ma noi dobbiamo scendere qua sotto, darci una bella spinta e salire qua ok? e troverete questa cenere di guerra il rugito del troll se vi trovate in una situazione tipo che ne so stanno arrivando un sacco di mostri e vi stanno circondando allora usate questo rugito del troll adesso noi siamo andati qui ad Alfabora ad applicare questa cenere adesso io lo applico con un'affinità fornita fulmine tanto così su questa spadone del mastino se vi è questo spadone ci ho fatto un tutorial su come trovarlo e adesso andiamo a provare questa cenere poi un'altra cosa che ci dice che questa spada questa cenere del rugito del troll dice che generando così un potente don da torto che respinge così nemici circostanti e se noi continuiamo con quella mossa dovrebbe fare ancora un forte attacco però io non ho provato questa mossa quindi la proverò più avanti nel gioco questa suona la tromba fai venire i tuoi compagni fai venire i tuoi compagni così ci divertiremo e niente ragazzi quindi non so se il video è stato utilissimo lasciate like iscrivetevi al canale attivate anche la campanellina e se avete bisogno non so di altri tutorial su Ender Ring fatemelo sapere nei commenti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao